C'erano le persone sulle sedie a rotelle E ce n'erano anche un gran numero Non mi ricordo più con esattezza quante fossero Seguirono veramente l'esortazione di Gröning Si alzarono dalle sedie a rotelle e le spinsero da sé Questo l'ho visto io Quando venne sul balcone e poi disse Alzatevi, voi paralizzati, potete camminare E a quel punto si alzarono Quando lei vede che i malati si alzano dopo che Bruno Gröning ha parlato con loro Vede che lui sta semplicemente lassù e dice Ora alzatevi E loro si alzano O vede persone che prima camminavano con le stampelle E poi le buttano via Allora è chiaro che una persona così non la puoi più chiamare ciarlatano Se si stava sul balcone si vedevano solo persone ovunque Uno sciame di persone inimmaginabile È stata una redenzione per noi Per tutti i presenti La sala era piena È stata una salvezza per tutti E io ero in piedi insieme a lui In quell'istante tutti i dolori erano scomparsi E io ero in piedi insieme a lui